Bene amici, oggi torna la nostra rubrica dedicata al calendario di tutti i pagamenti INPS, calendario ormai completo e con tutte le date ufficiali, ma non solo, perché ho una notiziona per gli amici agricoli in tema bonus e poi come sempre insomma tutte le ultimissime novità. Io sono Mr. Lul, sigla, mi raccomando un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Velocissimi pensioni, lo dicevamo giusto questa mattina, si parte dal 26 aprile, attendiamo però poste con la tornazione ufficiale per chiarire gli spostamenti dovuti al primo di maggio. NASPI, pagamenti partiti il 9 aprile, sapete che le date variano da persona a persona, quindi dal 9 aprile in avanti. In tema invece di NASPI REM o REM naspizzato, sapete che le domande si possono già presentare e i primi pagamenti arriveranno dalla metà di maggio. Bonus 100 euro, trattamento integrativo, pagamenti usciti dal 15 aprile ma anche date per il 20 e oltre. Come non parlare delle ricariche di reddito e pensione di cittadinanza previste regolarmente nelle solite due finestre. 15 aprile per eventuali arretrati e prime ricariche, mentre 27 aprile per la ricarica ordinaria. Bonus BB, ufficiale anche questo, prime date per il 16 di aprile, ma poi sono usciti anche il 20, il 21, quindi insomma come sempre controllate il vostro fascicolo. REM, reddito di emergenza, le tre nuove rate, le domande si sono aperte, il 7 e i primi pagamenti, come dicevamo prima, dalla metà di maggio, dal 15, come ci ha comunicato ufficialmente l'Inps. Vi ricordo che purtroppo non c'è ancora la circolare. Passiamo adesso ai bonus 2400 euro. I pagamenti sono iniziati l'8 aprile con l'Inps che ci comunica di aver già pagato tutti gli automatici. Se non avete ricevuto ancora nulla, mi raccomando, prendete contatto con la vostra sede di riferimento e fate la segnalazione. Inoltre, a breve, brevissimo, sarà attivata la procedura per chi invece dovrà fare una nuova domanda e mi aspetto circolare e aggiornamento del sito a strettissimo giro. Veniamo alla bomba per gli agricoli. Il ministro Patuanelli, come vedete, prende atto delle rimostranze del settore e si impegna, certo, non è ancora una certezza, comunque è già qualcosa di importante, a portare nel prossimo Consiglio dei Ministri la richiesta di previsione di una indennità Covid dedicata proprio agli agricoli. Purtroppo, quindi, non arriverà il bonus con la conversione in legge di questo decreto sostegni e quindi bisognerà aspettare ancora un po'. Cassa integrazione, assegno ordinario, FIS, come sempre dovete verificare cassetto previdenziale o CIP e purtroppo i ritardi continuano e personalmente non ho visto ancora date di pagamento. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, iscrivetevi con la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti e noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Buona serata a tutti da MrLul.